Musica Partiamo con Olbia Nova. Funghi, famiglia di 7 persone intossicata, colpito anche un bambino di 3 anni. 8 persone sono finite all'ospedale dopo aver consumato un piatto di funghi. I pazienti stanno tutti bene e dopo alcune ore di osservazione sono stati dimessi dall'ospedale di Olbia. Per prima si è presentata una donna di 50 anni con sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale. In serata, sempre all'ospedale Giovanni Paolo di Olbia, si è presentato all'ospedale un intero nucleo familiare composto da 7 persone, tra cui anche un bambino di 3 anni e il più anziano di 60. Avevano consumato un piatto a base di funghi regalato da un amico, convinto si trattassero di funghi porcini. Sassari, notizie. Pili, 3 morti in 15 giorni nelle carceri sarde. Due morti a Uta, di cui una inquietante e una sconosciuta sino ad oggi nella colonia penale di Mamone. Si tratta di un'escalation senza precedenti che il DAP sta cercando in tutti i modi di coprire. Morti che vengono attribuite a cause naturali. Vedasi il caso di Uta del 30 ottobre scorso. Sono queste le parole del deputato di Unidos, Mauro Pili, che dopo aver compiuto una visita ispettiva nella colonia penale di Mamone e dopo aver riscontrato nell'ultima ora i fatti di Uta con fatti autorevoli alle famiglie dei detenuti deceduti. Tutti i fatti verranno presentati dal parlamentare Domani Sardo tramite un'interrogazione con la quale chiederà l'apertura di un'inchiesta ministeriale su quei fatti. Proseguiamo con la nuova Sardegna. Aerei dal governo Renzi, 30 milioni per la continuità territoriale. L'annuncio del presidente del Consiglio abbiamo mantenuto l'impegno preso con il presidente della regione, Francesco Pigliaro. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, in una conferenza stampa in cui ha illustrato 12 buone notizie attese da tempo. La questione dei collegamenti aerei con l'isola era inclusa nel dossier Sardegna, consegnato il 28 maggio scorso dalla regione al Premier in occasione della sua visita a Olbia per l'inaugurazione del cantiere Matter di Olbia. Proseguiamo con le cronache noresi. L'incidente si è verificato ieri mattina nelle campagne e appunto per il recupero si è reso necessario l'intervento del soccorso e dei vigili del fuoco. Un escursionista di Gavò e di cui al momento non si conoscono le generalità si è infortunato durante un'escursione in compagnia degli amici. Il Latv.it, Quartus Sant'Elena a fuoco, l'auto di un agente di commercio. Ancora un'auto incendiata a Quartus Sant'Elena nel mirino è finita all'Audi A1 di un agente di commercio di 35 anni. I malviventi poco dopo la mezzanotte di ieri hanno raggiunto via del Nuraghe e individuato l'auto parcheggiata e una volta appiccato l'incendio sono fuggiti. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartus che hanno avviato le indagini. Cagliari Pad con la cronaca attacchi di Parigi aumentano i controlli in tutta la Sardegna. Nelle caupologo da oggi entreranno in azione anche gli agenti del nuovo nucleo Unità Operativa di Primo Intervento. Si tratta di unità operative già attive in altre province italiane con funzioni di antiterrorismo. Sotto i riflettori, come era facile immaginare, porti e aeroporti dell'isola, obiettivi sensibili come le ambasciatte, ma anche luoghi di aggregazione dove si possono radunare giovani e meno giovani. Il prefetto di Cagliari, Giuliana Perrotta, ieri ha convocato un'organizzazione urgente con tutte le forze di pulizia per pianificare l'attività di controllo del territorio e l'aumento delle pattuglie in strada. E concludiamo con l'Unione Sarda.it, la beffa dei fondi per gli alluvionati stanziati e mai arrivati a destinazione. Milioni annunciati e mai arrivati, promesse per realizzare interventi urgenti e chissà quando saranno mantenute. Soltanto a Olbia, per le ferite dell'alluvione, si attendevano 81 milioni per cominciare e se ne sono visti 16. Gli altri, almeno in base a quanto riporta il piano di gestione del rischio alluvioni, sono programmati in parte entro il 2021, in parte oltre il 2021. Grazie per l'ascolto, con questo è tutto, buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione!